La tua vita conta. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e in tessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa in forme del mio corpo e nel tuo libro erano scritti i giorni che mi erano destinati quando nessuno d'essi era assorto ancora. Salmi 139 15 16. Quali criteri devono essere utilizzati per valutare la vita di una persona? In base a cosa possiamo dire che una persona è importante e un'altra no? Il mondo ha stabilito i propri criteri, livello di istruzione, classe sociale, successo, eccetera. Dio è l'autore della tua vita. Egli ha fatto la scelta di crearti e di amarti, quindi non sei nato per caso. La tua vita ha valore perché è la scelta di Dio. Se il padrone dell'universo dichiara che la tua vita conta, chi può contraddirlo? Non ascoltare quella voce bugiarda che ti suggerisce che il mondo sarebbe molto meglio senza di te. Non è vero. Tu sei una benedizione per la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi colleghi. Tu sei il canale attraverso il quale il Signore vuole entrare nella loro vita e nei loro cuori. Tu sei la scelta di Dio e la tua vita conta. Grazie di esistere, Eric Selerier.